Penso che il problema di Roma non è stato un problema di organizzazione, non è stato un problema della squadra essere più grande o no. Il problema è che con 8 minuti abbiamo perso due gol della forma come abbiamo preso. Ma penso che dopo la squadra ha reagito molto bene, ha fatto una buona partita. Penso che nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà in pressione al Gioventus perché loro abbassano molti giocatori, ma penso che nel secondo tempo abbiamo pressionato meglio, abbiamo creato occasioni, abbiamo dominato, abbiamo fatto una buona partita.